E' capitato un po' a tutti di imbattersi senza volerlo in una fake news, ossia quella notizia palesemente falsa montata d'arte da qualcuno che di certo non fa il giornalista per denigrare e ledere la reputazione di una persona. A nessuno però è passato per la testa che la più grande fabbrica di fake news italiane si trova proprio a Taurianova, nel cuore della provincia regina e della piana di Gioia Tauro. A svelarlo è un servizio di Sky News 24 che a cura di Nicola Bruno racconta i segreti di questo laboratorio nel quale ogni giorno vengono costruite e condivise centinaia di bufale. Il direttore, se proprio così bisogna chiamarlo, della redazione dalla quale partono le notizie false si chiama Francesco Gangemi, ex carpentiere di professione che per sbarcare il Lunario ha deciso di crearsi un lavoro tutto nuovo, gestendo decine e decine di siti collegati a pagine Facebook, dalle quali quotidianamente partono notizie false e spesso dannose. Con lui lavorano altri otto cittadini di Taurianova e insieme gestiscono una rete di 50 fanpage Facebook e 40 siti, senza che in passato abbiano avuto mai alcuna esperienza di lavoro nel campo dell'informatica o del marketing o della comunicazione e neanche nel giornalismo svolgono lavori abbastanza comuni come il muratore, l'estetista, il barista, il panettiere. Le notizie diffuse sono ovviamente false, prive di alcun fondamento, spesso copiati ed incollati ad altri siti che svolgono lo stesso lavoro. La condivisione sui social poi riesce a far raggiungere risultati che i quotidiani di informazione online a volte si sognano di ottenere. I proventi pubblicitari, che in alcuni casi si fanno interessanti, vengono poi divisi tra i collaboratori in percentuale, in base a chi è riuscito a generare più traffico. Un sistema redditizio fino a pochi mesi fa, quando l'algoritmo utilizzato da Facebook premiava le fonti di notizie che venivano mostrate agli amici. Adesso che i social più famoso al mondo ha cambiato l'algoritmo, le prestazioni sono in calo perché i click sono in discesa.